L'ambientazione Angel, il vampiro, l'ex amante di Buffy, va lì per stare lontano da Buffy e lì comincia a creare di fatto una specie di agenzia investigativa per casi paranormali essenzialmente. Dello stesso cast della serie madre arriva il personaggio di Cordelia che se era un personaggio minore, un pochino diciamo la bella stupida nella serie madre, acquisisce col tempo, soprattutto nelle ultime stagioni, maggiore spessore. Inizialmente la serie, sempre dal creatore Josh Whedon, è estremamente autoconclusiva con il cattivo della puntata. Pian pianino però, parallelamente a questo, si sviluppano maggiormente trame orizzontali, come ad esempio il profilarsi di una associazione che andrà a essere una principale antagonista di Angel. Poi subentreranno ovviamente altre cose di fantasy e fantascienza contemporaneamente. Una nota particolare è che un personaggio, inizialmente nella prima stagione, dopo pochissime puntate, verrà fatto fuori. Questo è stato fatto per motivi di casting, perché sembrava che ci fossero problemi con l'attore legati alla sua tossicodipendenza. Il personaggio, che adesso mi sfugge onestamente il nome, ma vabbè, fa lo stesso, verrà sostituito da un personaggio invece noto da una serie madre, ovvero Wesley Windham Price. Questo Wesley in realtà è stato il mio personaggio preferito nella serie, perché è quello che soprattutto nella terza o quarta stagione diventa la figura più oscura. Perché mi piace questa serie? Mi piace perché secondo me ha dato il via a uno sviluppo più oscuro, meno scontato, più anche negativo per i personaggi che eravamo abituati a vedere in maniera positiva. Questo stile poi è stato ripreso, magari anche ampliato, nella serie madre di Buffy. Ci sono stati alcuni crossover, carini, ma niente di particolare, e in realtà sono tanti anni adesso che non li vedo. E una cosa particolare, sperando di non rovinare troppo la sorpresa, questa serie si è conclusa con un colpo di scena, un cliffhanger. In realtà, tutto sommato ci può stare come colpo di scena, anzi, se andate a cercare, capita di trovare in internet che venga detto come questa serie, con questo suo finale teoricamente aperto, anche un pochino negativo, sia un finale probabilmente migliore di quello che la serie avrebbe potuto avere e che molte serie hanno. Consiglio di vederla, non per qualche motivo profondo, filosofico o altro, quanto piuttosto perché è una buona serie fantasy, divertente, ha i suoi momenti di divertimento, andando avanti riesce a diventare più seria, molto più seria e comincia ad avere un tipo di violenza, anche un pochino oscura, psicologica, se vogliamo, che non mi è dispiaciuta e che soprattutto in quegli anni, stiamo parlando di prima di 2000, secondo me ha funzionato bene. Io ero al liceo quando l'ho visto, penso di averla vista praticamente soltanto io in tutto il mio liceo, per cui mi gasava anche soltanto per questo. Niente, guardatevela.